Corleone Ce l'abbiamo fatta, siamo a Corleone, il paese noto in tutto il mondo, nessuno non sa dove si trova Corleone, in Sicilia, la capitale, il punto da cui sono partiti i corleonesi e hanno conquistato prima la Sicilia e poi tutta la mafia per poter essere fortunatamente sulle legalità. Il Comune lo vedete, si presenta con un messaggio molto forte, capitale mondiale della legalità, non fare niente di illegale. Noi ci addentriamo con la nostra solita vela, vedremo se la gente ha recepito questo messaggio. Dove può essere andato? Matteo Messina Denaro Matteo Messina Denaro, lo sapete chi è? Come, no? Accenda lui, io sono giocato, non com'io dobro. Noi cosa può essere, non pare campo. Noi cosa può essere, non pare campo. Noi cosa può essere, non pare campo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti